Londra, Wembley Stadium, il 13 luglio 1985, i Queen suonano a Live Aid. Il 8 agosto 1969, i Beatles attraversano questo passaggio pedonale. A Tercea, Our Station, il 23 gennaio del 1977 esce Animals dei Pink Floyd con quella cosa lì sullo sfondo della copertina. E il 23 agosto 2019, i Black Star suoneranno al musico Odyssey di Castel di Cazzo. E rigorosamente in playback! Grazie per la visione!